Allora, siamo qui al distributore Ratti a fare il rifornimento alla vostra macchina Indio Spicola, perché noi andiamo a gas per poter risparmiare. Il nostro distributore è il distributore dei fratelli Ratti di Novi Ligure, che praticamente è una piccola cittadella per gli automobilisti e i camionisti. Gli automobilisti possono fare il riferimento, il rifornimento, pagare per conto proprio, risparmiare, oppure se sono dei shuri come il sottoscritto, farsi fare il rifornimento dallo schiavetto negro che è là, eccolo là, che sono due, tre o quattro, cinque o sei. C'è il posto anche per poter lavare l'automobile, renderla bella, attento per il sole che dipicca e anche lo spazio per la solidarietà, per la raccolta degli indumenti. Se poi vuoi fare una bella colazione, lascia anche il baretto dove prendi delle belle brioche e un cappuccino al costo modico di 2, 2, 2, 2 euro. Là ci scarichiamo i nostri giornali. E poi, là in fondo, vedi? E poi nell'epoca della globalizzazione, qui arrivano, e poi soprattutto siamo in Europa e noi siamo al centro del triangolo industriale e anche al centro dell'Europa, a due passi da Little Cedar, a due passi da Ilva adesso come si chiama, arrivano camionisti da ogni dove, i quali girano. Quindi possono fare la loro doccia, ricevono la posta e far mandare anche delle email. Quindi praticamente questa è una piattaforma, se vogliamo, ad uso degli automobilisti e soprattutto dei terminalisti al centro dell'Europa. E noi qui veniamo per rifornimento della nostra macchina in Ciasprintera.